Nell'ultimo episodio, Arnold è diventato un agente dell'FBI e oggi arriverà fino in fondo. Vedo che pensi di essere già un vero agente dell'FBI, Arnold, ma ti comporti ancora come un pie di piatti. Ehi, che ne dici di continuare con la ricerca di tua zia? Andiamo a dare un'occhiata agli archivi dell'FBI. Oltre 5.000 singole ciocche di capelli sono conservate qui come prova. Ci sono anche casi di Charlie Chaplin e John Lennon. Dobbiamo trovare il caso di tua zia, così avremo un mandato per metterle un microfono nel sedere. Ora ascolteremo tua zia, proprio come con Pablo Escobar. E secondo le tue ultime informazioni, si è appena ordinata una pizza. Arnold, questa è la tua occasione. Puoi andare sotto copertura. Per la tua sicurezza avrai un microfono nascosto. E il tuo compito è nasconderne uno nel suo ufficio. Il momento è adesso. Dai, Arnold. Ora tutto dipende da te. È davvero importante che tu cerchi di agire nel modo più naturale possibile. Ai ai ai. Che campanello. Arnie, entra in casa sua. Questa è la tua occasione. Vai, vai. Dai, Arnold. Questa è la tua missione. Vai a mettere il microfono nel suo ufficio. Ottimo. Ora lentamente avvicinati di soppiatto. Accidenti. Sembra che abbiamo un po' di problemi, Arnold. Dai, veloce. Inventati qualcosa. Oh no. Arnold, esci. Scappa. Prima che sia troppo tardi. È un po' più pericolosa di quanto pensassi. Arnie, aspetta. Qualcuno ti salverà di sicuro. Oh oh. Il gioco è fatto, amico. Ora ti ucciderà senza battere ciglio. Sei venuto a scusarti, Arnold. È così dolce da parte tua. Signor bravo ragazzo. Ma tua zia ha altre idee. Ah ah. Sai, è un po' ironico. Prima la stavi inseguendo. Ora sta inseguendo te, amico. Prima la stavi inseguendo.